Poco tempo per riposare per il campionato di calcio di Serie A che torna subito in campo per il turno infrasettimanale inerente la quarta giornata del girone di ritorno. Si parte martedì sera alle 20.45 con la sfida tra Sassuolo e Roma. Entrambe arrivano da situazioni particolarmente differenti. I giallorossi di Spalletti che hanno vinto in casa l'Olimpico e il derby contro il Bosinone per 3-1, mentre i romanioli sono reduci dal pareggio esterno positivo contro l'Atalanta per 1-1. Domani poi il resto del programma. L'attenzione per la formazione giallorossa è di recuperare più punti possibili per ritornare nelle zone alte della classifica, mentre il Sassuolo continua la sua strada verso la salvezza.